Mi chiamo Jonathan, sono il Sales & Marketing Manager alla Riva del Sole di Sot & Spa. Ciò abbiamo chiamato il Modrone per la realizzazione di uno spot commerciale. Un bel team, hanno lavorato veramente bene intensamente e devo dire che il risultato l'ha veramente superato le nostre aspettative. Quindi grazie Modrone e a presto! Grazie per la visione!